Si è tenuto venerdì 6 settembre in Villa Cordellina Lombardia a Montecchio Maggiore la nuova edizione di Miss Provincia di Vicenza. Tra i protagonisti impegnati nell'evento anche più di 20 acconciatori soci Confartigenato Vicenza. Vediamo. Miss Beauty Style Confartigenato Epav è la numero 5 Sara Ursida. Un evento dedicato alla bellezza e all'arte delle mani nel valorizzarla. L'iniziativa ha promosso infatti anche l'eccellenza e l'artigianalità nel settore. L'evento ha visto più di 20 soci di Confartigenato Vicenza, grazie al contributo Epav, impegnati a creare acconciature studiate sulle caratteristiche delle modelle in tempi ben definiti. Confartigenato Vicenza ritiene fondamentale sostenere e promuovere quelle professionalità che, giorno dopo giorno, tengono viva l'arte dell'acconciatura come un'espressione unica e irripetibile.